Non intendo assolutamente polemizzare con quanti magari in maniera un po' troppo sbrigativa hanno parlato di cartelle pazze, si tratta del doveroso fronteggiare da parte della nostra amministrazione comunale un fenomeno che nel passato non è stato contenuto né tantomeno contrastato, quello dell'evasione tributaria di fatto creando cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini privilegiati che ritenevano di non onorare il proprio dovere nei confronti della pubblica amministrazione che poteva contare sulla impunità, sul non perseguimento di quanto invece dovuto e i cittadini, forse tra virgolette da qualcuno considerati fessi, che pagano ecco io non considero fesso chi paga e non voglio criminalizzare chi non paga voglio mettere tutti i cittadini nella condizione di adempiere il proprio dovere perché altrimenti l'amministrazione comunale, il comune, la città non solo non riesce e non sarebbe riuscita dal punto di vista formale a riequilibrare i bilanci che è il risultato che noi stiamo consegnando a poco più di quattro mesi dal nostro insediamento a tutti i cittadini ma non uscirebbe dalla crisi, dalla crisi finanziaria, dalla crisi di liquidità drammatica nella quale invece è stata piombata negli ultimi anni e allora nessuna polemica, semmai soltanto limito a riflettere di più e a non schierarsi anche in forza del noto principio di eguaglianza tra tutti i cittadini e del principio di legalità a non schierarsi dalla parte degli evasori ma dalla parte delle persone oneste per bene che sono tante si ridurrà anche la sacca dell'evasione nel momento in cui il cittadino di Caltagirone che peraltro è un cittadino che ha sempre avuto in somma rilevanza e importanza il senso dell'istituzione e della partecipazione alla vita pubblica vorrà mettersi, come sono sicuro, si metterà in regola con i propri tributi c'è poi un problema invece di errori, di errori formali che sono stati commessi ma noi abbiamo anche accelerato il processo amministrativo questi errori sono stati già individuati peraltro si tratta di percentuali molto basse ai limiti del trascurabile attendiamo nella collaborazione che abbiamo già istituito con quanti gestiscono i CAF, i centri di assistenza fiscale e i professionisti del settore un rapporto di collaborazione perché in autotutela l'amministrazione comunale possa eventualmente annullare alcuni di questi avvisi di accertamento ma vi assicuro che si tratta di percentuali davvero basse dal punto di vista numerico e ancora più risicate dal punto di vista dei valori finanziari c'è soltanto di alcune centinaia di migliaia di euro rispetto ai 21-22 milioni di avvisi di accertamento che sono stati diramati attenzione, lo ha fatto l'amministrazione Ioppolo e si assume la mia amministrazione ovviamente tutto il peso e la responsabilità di questo atto indispensabile per poter riequilibrare i bilanci come ci ha chiesto, quasi imposto il Ministero degli Interni ma era giusto che questo accadesse ma che avrebbero dovuto fare gli altri che hanno governato e amministrato prima e che non hanno inteso o voluto fare Sì, il risultato si è raggiunto attraverso azioni su tre fronti su due fronti e poi è arrivato un regalo le azioni su due fronti sono state rivisitazione dei costi quindi mantenimento di costi in bilancio a fronte di acquisti di beni o erogazioni di servizi effettivamente prestate sono state cancellazioni di tutti quei costi che erano stati mantenuti iscritti ma che poi non avevano avuto una conseguenza né giuridica né economica questo ha comportato una cancellazione di circa 5 milioni di costi la seconda azione è stata quella di poter iscrivere mantenere delle entrate che erano state iscritte in eccesso rispetto alle imposte incassate e poter iscrivere ancora alcuni milioni di euro di maggiori entrate grazie alla notifica degli avvisi di accertamento che confermano la capacità della macchina amministrativa di poter esigere l'incasso delle somme questo è un tema molto importante come dicevo prima in conferenza stampa è un tema che riguarda la gestione amministrativa delle amministrazioni del sud tutti i comuni in dissesto sono in dissesto perché non riescono ad avere entrate sufficienti per coprire i costi i versamenti spontanei da parte dei cittadini si attestano tra il 60 e il 70% al nord le percentuali di versamento spontaneo sono superiori al 90% allora questo è un atteggiamento culturale che il sud, che la Sicilia deve superare dobbiamo avere parametri di riferimento nazionali quindi io mi auguro che nel futuro il comune di Caltagilone possa essere un comune che possa dare l'esempio ad altri comuni del sud e della Sicilia per avere il pregio di avere incassi di versamenti spontanei che si avvicinino al 90% abbiamo avuto un'iniziativa come comune, come amministrazione di coinvolgere i 17 comuni, adesso sono 20 in Sicilia dissestati abbiamo fatto una riunione a Caltagilone con alcuni sindaci di questi comuni dissestati ne faremo una prossima riunione a Barra Franca il prossimo 21 novembre poi ne faremo delle altre faremo delle riunioni mensili con i comuni in dissesto e poi estenderemo questo invito anche ad altri comuni che sono in predissesto per condividere esperienze cercare di condividere le migliori esperienze che arrivano dall'attività amministrativa del giorno per giorno per dare una mano direi proprio di tipo culturale a cambiare pagina quindi non dobbiamo avere paura che stiamo facendo le cose per bene che facciamo i visi di accertamento perché tutti i comuni in dissesto c'è condivisione su questo o si fa questo o si muore Caltagilone non vuole morire 47.000 cartelle che avete notificato viene la media di una cartella più di una cartella a persona un nucleo familiare di 5 persone se vede arrivare 5 cartelle no non è così non è così perché come spiegavo la matematica dice che non è così noi abbiamo circa un 30% di contribuenti che non pagano spontaneamente le imposte a Caltagilone abbiamo circa 16.000 contribuenti un terzo di 16.000 è poco più di 5.000 tra 5 e 6.000 47.000 avvisi di accertamento notificati riguardano 8 annualità perché sono 4 anni per 2 tipologie di imposte se dividiamo 47.000 diviso le 8 annualità arriviamo a quel paniere di 5.000-6.000 contribuenti che sono stati destinatari delle cartelle quindi non tutti i contribuenti di Caltagilone hanno ricevuto avvisi di accertamento hanno ricevuto avvisi di accertamento solo coloro che non pagavano certo hanno ricevuto avvisi di accertamento anche alcuni contribuenti potrebbero essere diverse centinaia forse anche un migliaio che invece non dovevano ricevere avvisi di accertamento annulleremo d'ufficio questi avvisi di accertamento errati stiamo parlando di piccoli importi importi che vanno dai 40 ai 50 euro però è un fastidio che ci piace molto che si sia verificato ci scusiamo e stiamo rimediando ha messo nel confronto i comuni del nord con quelli del sud quelli del nord come esempio virtuoso contro quelli del sud che invece non lo sono non pensa invece che le condizioni ovviamente di base sono completamente diverse? no per una semplice ragione quando facevo quelle statistiche mi riferivo all'Imu l'Imu si paga sulla seconda casa certamente c'è un maggior disagio economico al sud rispetto al nord ma quando parliamo di imposta sulla seconda casa certamente possono esserci dei contribuenti che hanno ricevuto una casa in eredità che non riescono a vendere non riescono ad affittare quindi per loro è un grande disagio e quindi una percentuale si giustifica così un'altra percentuale invece non so stimare quanto ma ritengo che sia importante è data da un comportamento che forse vede lo Stato come straneo che vede lo Stato come qualcosa che non appartiene invece non deve essere così se al nord si pagano le imposte sull'Imu con versamenti spontanei per più del 90% io non vedo delle ragioni di disagio economico che dicano che al sud si devono pagare per il 50% una percentuale di scostamento lo giustifico con con il disagio economico che c'è però attenzione l'Imu si paga sulla seconda casa quindi è una grossa percentuale probabilmente di tipo culturale Tempi tecnici per chiudere finalmente questo dissesto? Tempi certi ci sono Tempi certi ci sono perché abbiamo varie fortune la prima fortuna è che la prima fortuna è che abbiamo ricevuto questa chiusura dell'organismo di liquidazione sulla situazione del dissesto e ci dà un regalo di un milione e mezzo che poi sarà incrementato per effetto delle altre azioni che faremo la seconda fortuna in termini di tempistica è che per uscire dal dissesto servono due condizioni la prima approvare un bilancio in riequilibrio oggi abbiamo approvato il bilancio in riequilibrio nella sostanza nei numeri dal 2012 al 2016 insieme al bilancio in riequilibrio approvato in tempi record dobbiamo imiare al Ministero anche il bilancio previsionale 16-18 per questo stiamo ancora lavorando e poi tutta una copiosa documentazione e ci sarà una giunta il 21 di novembre che approverà questi otto bilanci con tutta la documentazione di supporto la seconda condizione è per uscire dal dissesto quindi la prima condizione l'abbiamo sostanzialmente superata cioè approvare i bilanci una seconda condizione è che quando un comune cade in dissesto deve rimanere in questo status per cinque anni e in questo senso abbiamo la fortuna si fa per dire che Caltagirone è caduta in dissesto con effetto primo gennaio 2012 quindi i cinque anni si esauriscono col primo gennaio 2017 quindi questa giunta grazie purtroppo a questo periodo enorme trascorso di vergogna di dissesto il primo gennaio del 2017 saranno già scaduti cinque anni e quindi vuol dire che nella primavera del 2017 con dignità e orgoglio Caltagirone non sarà più un comune in dissesto bene certo allora il 21 novembre ci sarà un aspetto formale della giunta che approva tutti i bilanci che devono essere trasmesse al ministero che sono i bilanci 2012 il periodo 2012-2016 e il bilancio previsionale 2016-2018 dopodiché questi documenti saranno dati ai revisori e alla prima commissione del consiglio comunale la commissione bilancio che avrà un tempo idoneo per esaminarli dopodiché si andrà in consiglio comunale io ritengo che entro un paio di settimane dal 21 di novembre quindi entro l'immacolata il consiglio comunale possa essere nelle condizioni di deliberare l'approvazione di questa copiosa massa di documenti che trasmetteremo al ministero dell'interno e con diciamo la prima settimana di dicembre possiamo ritenere conclusa questa maratona è stata stancante ma come tutte le competizioni quando si arriva al traguardo di grandissima soddisfazione è stata